Musica Ed è un altro telegiornale ricco di notizie, quello che si apre da Pordenone che è rivolto a tutto il nord est, ben ritrovati gentili telespettatori e telespettatrici Non mancano le notizie da tutto il Triveneto con delle operazioni importanti portate a termine dalla Guardia di Finanza a cominciare da Pordenone con oltre 11 milioni di euro scoperti dalle fiamme gialle ed anche un'operazione importante a Caorle sul lavoro sommerso in ambito turistico Sono queste solo due anticipazioni del ricco menu informativo che ci aspetta con ultimissime anche che arrivano non solo da Udine ma anche dal porto gruarese poi ospiti in studio e approfondimenti legati alla politica e soprattutto ad un altro tema del giorno come la commemorazione per quanto riguarda la tragedia del Vaillant era il 9 di ottobre di 56 anni fa, una data che resta ancora impressa nella mente e nel cuore di tutti noi tanto in Fili Venezia Giulia quanto in Veneto ne parleremo anche con un collegamento speciale visto che abbiamo intercettato un professore dell'Università di Udine che da decenni segue la questione ma ne parleremo ovviamente nel corso del nostro notiziario vi ringrazio perché siete davvero in tanti a seguirci e anche in tanti a riscontrarci relativamente alle domande che ogni giorno vi sottoponiamo alla vostra attenzione partiamo dall'ultima, quella dell'edizione del telegiornale di ieri taglio dei parlamentari si va verso l'eliminazione di 345 poltrone sei d'accordo? sì al 95% no al 5% ebbene un'altra notizia importante e che abbiamo deciso in questo senso di approfondire con voi è quella che riguarda l'ergastolo ostativo insomma la Corte Europea dei Diritti Umani ha chiesto all'Italia di rivedere le norme in materia di ergastolo la Corte ha infatti affermato che l'ergastolo ostativo è contrario all'articolo 3 della Convenzione Europea per i Diritti Umani che vieta i trattamenti e le punizioni inumane e degradanti in assenza di ricorsi la sentenza diverrà definitiva in tre mesi allora noi vi chiediamo l'Europa a boccia l'ergastolo ostativo quindi stop al carcere a vita per esempio ai mafiosi siete d'accordo? fatecelo sapere con un messaggio al 393-9324-336 una mail anche a info.telepordenone.tv vi ricordo che siamo sempre in streaming in tutto il mondo sul nostro sito telepordenone.tv o attraverso Facebook e Instagram dove potete sempre interagire con noi relativamente alla domanda per spiegarvela meglio per ergastolo ostativo si intende la pena che prevede la reclusione a vita il cosiddetto fine pena mai in base alla legge italiana anche chi viene condannato all'ergastolo ha diritto ad alcuni benefici come per esempio la semilibertà e può usufruire di permessi premi dopo 26 anni di carcere inoltre al condannato all'ergastolo può essere concessa la libertà condizionale se durante la detenzione ha tenuto una buona condotta l'ergastolo ostativo invece è l'eccezione alla regola in quanto non permette di concedere al condannato alcun tipo di beneficio o di premio per questo viene inflitto a soggetti altamente pericolosi che hanno commesso determinati delitti come per esempio quelli legati alla tipologia mafiosa quindi l'Europa boccia l'ergastolo ostativo e quindi fateci sapere se siete d'accordo o meno con questa direttiva europea abbiamo il telegiornale dunque con la cronaca cadavere abbandonato questa mattina di fronte all'ospedale di Maggiore di Trieste il servizio di apertura affidato al collega Omar Costantini Macabra scoperta questa mattina all'esterno dell'ospedale Maggiore di Trieste nell'area del pronto soccorso dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un uomo dall'apparente età tra i 30 e i 40 anni un primo esame eseguito sulla salma mostrerebbe una lesione molto profonda alla testa che potrebbe essere la causa del decesso sul luogo sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Trieste che stanno indagando sul caso al momento tutte le piste sono aperte per risalire all'identità dell'uomo ma anche alle vere cause del decesso e l'abbiamo detto all'inizio del nostro telegiornale blitz della guardia di finanza di Pordenone con indagini nei confronti di imprenditori russi residenti nella provincia accertati redditi secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle non dichiarati per oltre 11,5 milioni di euro sequestri per quasi 8 milioni sentiamo la guardia di finanza di Pordenone ha condotto indagini di polizia giudiziaria delegate dalla locale procura della repubblica nei confronti di cittadini russi da tempo residenti nella provincia che pur manifestando notevoli disponibilità economiche e patrimoniali palesavano modeste situazioni reddituali nel corso di tale attività sono stati individuati due imprenditori russi regolarmente iscritti all'anagrafe del comune friulano con i relativi familiari ove peraltro fruivano di tutti i servizi pubblici correlati a tale status residenziale compresa l'iscrizione al servizio sanitario nazionale i due cittadini stranieri tuttavia nel formalizzare l'iscrizione presso l'anagrafe comunale italiana non avevano successivamente provveduto ai sensi di legge alla cancellazione della precedente residenza estera nella confederazione russa tale attività ha comportato conseguentemente la contemporanea presenza di una doppia residenza degli imprenditori sia a fini fiscali che civilistici in due stati diversi con il risultato che i redditi percepiti di rilevante entità anziché tassati non venivano dichiarati in nessuno dei due paesi o alternativamente rappresentati in maniera del tutto irrisoria rispetto all'importo reale a livello esemplificativo i redditi conseguiti non venivano dichiarati in Italia per l'asserita residenza in Russia dei titolari per contro sugli immobili di residenza acquistati nel territorio nazionale le medesime persone pagavano imposte ridotte o non ne pagavano come nel caso dell'Imu proprio sulla scorta della contestuale loro residenza in Italia correlata appunto all'abitazione principale le indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziare di Pordenone hanno consentito di rilevare come al di là della doppia residenza i cittadini russi avessero di fatto domicilio in Italia ove svolgevano attività lavorative unitamente alle proprie famiglie e usufruivano dei relativi servizi pubblici disponendo di autoveicoli ed anche di seconde abitazioni utilizzate per le vacanze nei confronti dei contribuenti attenzionati è stata inoltre riscontrata la detenzione di ingenti disponibilità finanziarie non dichiarate fini fiscali né in Italia né in Russia in istituto di credito ubicati in altri paesi esteri tra cui le British, Virgin Island e Cipro a conclusione delle indagini sono stati contestati ai due imprenditori redditi non dichiarati per complessivi 11.771.000 euro con conseguente denuncia nei loro confronti per il reato di dichiarazione infedele in particolare per uno di essi la commissione tributaria di Pordenone ha emesso un provvedimento di sequestro conservativo per complessivi 7.800.000 euro eseguito tra l'altro su proprietà immobiliari ubicati nei comuni di Pordenone e di Liniano Sabbia d'Oro operazione della guardia di finanza anche sulle spiagge venete andiamo a Caorle dove i baschi verdi nella lotta al lavoro sommerso hanno individuato 45 lavoratori in nero multe per quasi 200.000 euro dall'inizio dell'anno la guardia di finanza di Caorle ha eseguito 31 controlli nel settore dell'impiego della mano d'opera individuando 45 lavoratori in nero e o irregolari i datori di lavoro sanzionati dai finanzieri della locale tenenza sono stati nel complesso 17 per un ammontare complessivo di sanzioni rogate pari ad oltre 181.000 euro le irregolarità sono state riscontrate in svariate tipologie di esercizi collegati all'indotto turistico della località balneare bar, ristoranti, hotel, campeggi, commercio i lavoratori in nero o irregolari individuati erano tanto di nazionalità italiana che straniera in specie moldava, rumena e dominicana in sei casi i dipendenti irregolari sono stati regolarizzati ed assunti ufficialmente tra i casi emersi quello di un ristorante in cui erano impiegati tre lavoratori privi di un regolare contratto di questi uno è risultato beneficiario del reddito di cittadinanza il percettore di tale sostegno economico è stato segnalato alle competenti autorità per la revoca del beneficio in un altro caso i finanzieri hanno individuato 16 lavoratrici di origine est-europea impiegate in nero da un'azienda di pulizie le donne in possesso del visto turistico in corso di validità sono risultate prive del permesso di soggiorno necessario per poter espletare attività lavorativa subordinata in Italia l'audizione delle donne ha fatto luce sulle condizioni di precarietà in cui le stesse prestavano la propria attività lavorativa e sull'esistenza di un vero e proprio sistema di reclutamento di lavoratrici straniere attraverso appositi gruppi di contatto creati su famosi social network i responsabili dell'azienda di pulizie sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro Facciamo i complimenti alla Guardia di Finanza per l'attività portata a termine finalizzata alla repressione del fenomeno e alla prevenzione sono le parole del sindaco di Caurel Luciano Striuli a commento dell'operazione sul lavoro sommerso eseguita dalla Guardia di Finanza della locale tenenza in città la notizia è stata accolta positivamente tanto dalle istituzioni quanto dalle categorie siamo per la legalità ha commentato il presidente di Confcommercio Caorle Corrado Sandrini perché rispettare le regole è sempre un vantaggio per tutti Torniamo a parlare dei fatti di Trieste con l'analisi dell'omicida dei due poliziotti con delle novità che arrivano come ci racconta nel servizio Omar Costantini dettagli sul passato di Alejandro Augusto Stefan Meran l'autore, 29enne, della strage lo stesso faceva uso di sostanze stupefacenti come il fumo di marijuana e non solo e aveva già rubato un'auto quello che si sa è che Alejandro fin da piccolo facesse uso di cannabis quando si trovava in Germania aveva rubato un'auto un giorno di impeto aveva sottratto un veicolo per potersi imbancare sul primo aereo diretto a Santo Domingo un volo che non fece mai perché la polizia tedesca lo arrestò prima della sua partenza e dopo le pratiche di rito fu condotto in un ospedale psichiatrico intanto il GIP di Trieste ha convalidato l'arresto confermato dal fatto che le analisi delle telecamere di videosorveglianza avrebbero mostrato lucidità nel portare avanti l'azione delittuosa Andiamo a Udine si attacca alla fondina di un poliziotto e cerca di prendergli la pistola un fatto questo accaduto come detto nella località friulana sentiamo il servizio di Giovanni Paco Siamo tornati in diretta cercheremo di ovviamente fornirvi il contributo quanto prima vi do una notizia che riguarda Manuel Bortuzzo lo ricorderete il nuotatore gravemente ferito a Roma a seguito di una sparatoria perché gli autori dell'aggressione al giovane nuotatore alla fidanzata sono stati condannati a 16 anni Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano erano accusati di duplice tentato omicidio il GIP ha riconosciuto la premeditazione il fatto avvenne la notte tra il 2 e il 3 febbraio scorso nel quartiere AXA nella capitale Bortuzzo una promessa del nuoto è stato raggiunto da un proiettile ed è rimasto paralizzato alle gambe la procura aveva chiesto una condanna a 20 anni ciascuno per i due imputati il giudice ha disposto una provvisionale di 300 mila euro in favore di Manuel i due imputati erano accusati anche di ricettazione e detenzione di arma da fuoco coerissa il gruppo ha fatto cadere l'aggravante dei futili abietti motivi e sul risarcimento ha stabilito che debba essere discusso davanti al giudice civile e vi parlavo prima di un fatto accaduto a Udine con un uomo che si è attaccato alla fondina di un poliziotto cercando di prendergli la pistola sentiamo i particolari nel servizio e pugni fino a provare a togliere la pistola dalla fondina di un agente è successo ieri sera in via Roma ad Udine verso le 21.15 una 27enne udinese è stata così arrestata per l'ipotesi di reato di resistenza a pubblico ufficiale una volante è intervenuta nella strada vicina alla stazione ferroviaria su chiamata di due guardie giurate intervenute per tentare di sedare una furiosa lite tra due donne la 27enne che già aveva minacciato ed offeso i due vigilantes ha avuto un atteggiamento ancora più aggressivo nei confronti dei poliziotti arrivando appunto a sputare inveire tirare calci e minacciarli di morte inoltre per cercare di fuggire si è attaccata alla fondina della pistola di uno dei poliziotti cercando di prendere l'arma l'iniziativa ha avuto vita breve e il poliziotto l'ha fatta desistere immediatamente è stata quindi portata in questura ed arrestata con obbligo di firma quotidiana visti i suoi precedenti ed il temore di reiterazione del reato dalla questura di Udine si esclude qualsiasi tipo di gesto di carattere emulatorio con quanto avvenuto la scorsa settimana a Trieste e oggi ricorre il 56esimo anniversario della tragedia del Vaillant con l'onda che provocò più di duemila morti una data da non dimenticare una data da ricordare una data che serve anche da testimonianza per il futuro allora ricostruiamo nel servizio il tragico evento una data che non si dimentica una ricorrenza che ancora viene ricordata con il giusto cordoglio per non dimenticare oggi ricorre il 56esimo anniversario della tragedia del Vaillant il disastro ambientale avvenuto la sera del 9 ottobre del 1963 erano precisamente le 22 e 39 dalle pendici settentrionale del monte Toc si staccò una franna che crollò sul bacino artificiale sottostante l'onda provocò morte e silenzio nella valle con i detriti e l'acqua che travorsero le località di Erto e Casso nel Pordenonese e poi Longarone nel vicino Veneto radendolo al suolo così come le frazioni di Pirago Rivalta Villanova e parzialmente Faè il bilancio fu dei peggiori oltre 1900 i morti di cui 1450 residenti nel comune Veneto di Longarone 487 bambini una ricorrenza alla quale la regione Friuli-Venezia-Giulia rende omaggio grazie all'istituzione lo scorso giugno della giornata in ricordo della tragedia del Vajont e del riconoscimento memoria Vajont la tragedia rappresenta una ferita che non può essere considerata chiusa la recente istituzione della giornata in ricordo della tragedia del Vajont da parte della regione Friuli-Venezia-Giulia rende la commemorazione di oggi ancora più significativa ha detto il capogruppo del Partito Democratico Sergio Bolzonello nel giorno del 56esimo anniversario della tragedia ricordando l'istituzione della giornata e del riconoscimento il senso di questa legge ha detto Bolzonello non si riduce a un'operazione veramente nostalgica ma è uno strumento propositivo e proteso al futuro che introduce strumenti che incentivano nuove ricerche percorsi didattici e manifestazioni La giornata del ricordo della tragedia del Vajont oltre che alla doverosa commemorazione delle vittime può servire anche a favorire la creazione di una consapevolezza collettiva a riguardo dell'antropizzazione dei nostri territori questo è il commento del consigliere regionale della Lega Stefano Turchetta nella giornata del ricordo della tragedia proprio grazie a questa immane tragedia ha detto Turchetta abbiamo il dovere di operare affinché la progettazione e la realizzazione delle opere garantisca la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente e proprio per cercare di capire che cosa ci aspetta nel futuro ma anche quanto significato ha questa data che sembra così lontana ma mai come ora è così vicina quella della tragedia del Vajont abbiamo voluto sentire anche la voce di chi di queste cose ovviamente se ne intende come un professore dell'università di Udine che abbiamo raggiunto al telefono Paolo Paronuzzi che appunto ci spiega soprattutto dove bisogna guardare certo indietro ma anche ovviamente al domani sentiamo Paronuzzi Con il professore Paolo Paronuzzi dell'università di Udine giornata questa nella quale si commemora la tragedia del Vajont 56 anni professore lei è da anni che studia il fenomeno che cosa le lascia questa giornata e soprattutto a quali considerazioni è arrivato a seguito insomma di questi anni di approfondimento diciamo la cosa che mi preme sottolineare è che al di là delle commemorazioni che ovviamente riguardano un fatto molto triste dove ci sono stati più di 2000 vittime che ancora oggi piangiamo quindi questa è una grande tragedia ma al di là della commemorazione credo sia importante partire sempre da questo episodio per chiederci che cosa oggi si potrebbe fare di più e di meglio per evitare che queste grandi tragedie si verificano e quindi questa è una domanda sempre viva per me e lo studio della frase è stato un grande segnamento sia dal punto di vista tecnico scientifico che umano diciamo che è un fatto molto particolare molto tragico che mette in luce tutte le carenze dell'organizzazione degli uomini quando o diciamo in molti casi quando questi uomini costruiscono realizzano delle grandi opere senza valutare in maniera assennata e anticipatamente le eventuali conseguenze questa è la grande lezione e questa è la qualità del variore ecco che è anche insomma una lezione che deve servirci soprattutto per il futuro anche se ovviamente l'ingegneria migliora però c'è sempre insomma da stare con le orecchie allerta no? come si dice in gergo certamente diciamo l'ingegneria sicuramente migliora e quindi il progresso tecnico è stato assolutamente rilevante però io voglio rilasciarmi a un episodio vicino a noi che ha colpito l'Italia è il caso del ponte di Genova che ovviamente è una tragedia diversa come fenomeno di collasso però ci mette in evidenza alcune analogie che secondo me sono importanti le analogie relative alla mancanza dei controlli all'importanza dei controlli al fatto che a un certo punto si arrivi e così si è arrivato il Vaillant sperando che qualcosa non succeda sperando che non avvenga il peggio ecco certamente questo non è il modo per affrontare le grandi opere tecniche secondo me c'è ancora molto da lavorare e tra l'altro proprio sul Vaillant abbiamo deciso di dedicare un approfondimento uno spazio di approfondimento tutto da seguire questa sera al termine del nostro telegiornale dopo le 21 perché è giusto ovviamente non dimenticare e continuare a parlare di quanto accaduto erano le 13.30 circa di oggi quando un terremoto si è verificato una scossa si è verificata a Querovas siamo nel Bellunese è un terremoto di magnitudo 2.6 una scossa fortunatamente lieve che però è stata avvertita anche non solo nel Bellunese ma anche nella vicina Marca Trevigiana nella zona di Val Dobbiade non sono stati segnalati danni a cose o persone andiamo ad Udine dove i carabinieri hanno sequestrato un impianto a Pradamano per la lavorazione dei rifiuti particolari i carabinieri del NOE di Udine nell'ambito dell'attività di controllo nello specifico settore disposto dal comando carabinieri per la tutela ambientale hanno effettuato una serie di ispezioni finalizzate al monitoraggio delle attività impegnate nel ciclo della plastica ad esito delle quali hanno accertato violazioni penali nei confronti di una società a sita a Pradamano operante nel settore del recupero della plastica il controllo ha portato al deferimento stato di libertà del presidente del consiglio d'amministrazione della società proprietaria e gestore di uno stabilimento destinato lo stoccaggio e recupero di materiale plastico e di ingombrante a seguito delle risultanze investigative immerse il NOE di Udine ha inoltre sottoposto a sequestro preventivo successivamente convalidato dal GIP del Tribunale il citato stabilimento del relativo impianto di aspirazione polveri poiché risultati privi delle necessarie autorizzazioni ambientali alla gestione dei rifiuti e delle conseguenti emissioni in atmosfera il sequestro ha interessato uno stabilimento delle ingenti dimensioni 18.000 m3 e 1.400 m2 di rifiuti in esso stoccati per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro e lo ricorderete è un tema che ha fatto discutere e non poco l'IVA sulle patenti di guida retroattiva di 5 anni c'è stata un po' una sollevazione Tiziano Centis ben ritrovato consigliere regionale per quanto concerne cittadini ha sollevato non poche poleniche perché insomma potrebbe gravare non poco sulle imprese e lei è in procinto di discutere anche in consiglio regionale si ha ragione la questione si è posta in maniera abbastanza forte perché c'è questa novità le autoscuole guida gli istituti le scuole guida insomma di tutto il territorio nazionale e ovviamente in particolare della nostra regione dovranno versare l'IVA retroattiva faccio un piccolo riassunto delle puntate alcune scuole guida in Germania pagano l'IVA e ovviamente visto e considerato che altri paesi non pagano l'IVA come l'Italia per quanto riguarda i corsi di formazione alla scuola guida hanno fatto ricorso avverso il proprio governo quindi il governo tedesco il governo tedesco ha posto un quesito e ha fatto ricorso verso la comunità europea la corte di giustizia della comunità europea ha stabilito giustamente a questo punto che tutti i paesi della comunità europea devono pagare l'IVA e fin qua ci siamo quindi la scuola guida non è più equiparata assoggettata a corsi di formazione scolastica che sono esenti da IVA quindi a questo punto tutti i paesi le scuole guide pagano l'IVA ma il problema è che la norma prevede anche la retroattività va indietro va indietro di ben 5 anni quindi tutti gli istituti scolastici tutte le scuole guida del territorio nazionale ovviamente anche del Friuli Venezia Giulia devono versare l'IVA indietro 5 anni e ovviamente la cosa esplode anche perché gli istituti scolastici scuole guide o si fanno dare i soldi praticamente da chi ha fatto la scuola guida da chi ha la patente indietro indietro 5 anni altrimenti devono versare di proprio conto delle proprie tasche la scuola guida l'istituto i soldi di questa IVA che loro devono versare si parla di centinaia di euro e si parla di centinaia di euro perché è chiaro questo punto che l'IVA al 22% se una scuola guida ha ovviamente dato patente a un centinaio di ragazzi sono migliaia e migliaia e migliaia di euro che una scuola guida deve versare allo Stato allora si sta già muovendo sia a livello di governo centrale e sia anche a livello di regioni e adesso ovviamente porrò nei prossimi giorni una richiesta un ordine del giorno in Consiglio regionale a che questa giunta regionale si impegni con il governo centrale che ci sia un emendamento una manovra o comunque un intervento che stralci questa parte che riguarda la retroattività quindi va bene pagare l'IVA d'ora in avanti un ragazzo o qualsiasi persona che si appresta a conseguire la patente sa che deve pagare anche l'IVA e felici siamo ma che almeno non ci sia la retroattività perché in questo caso mette veramente a rischio tanti istituti scuole guida che ovviamente non sono le condizioni e di farci dare i soldi da chi ha già fatto la patente ma neanche a questo punto di metterci di tasca propria per poter onorare un qualche cosa che hanno già pagato ha già versato e quindi la partita è praticamente chiusa seguiremo la vicenda prima di lasciarla però volevo una sua opinione anche sul taglio dei parlamentari che è divenuta legge anche in maniera trasversale se non che alcune forze politiche ovviamente hanno votato conto però in maniera trasversale ha avuto questo appoggio lei che cosa ne pensa su questo? guardi posso dirle che è una grande demagogia posso dirle che è una grande sciocchezza lei farebbe parte di quella è una grande sciocchezza perché viene individuato questa le poltrone il poltroneficio la politica viene vista e individuata come una brutta cosa che non sa da fare ahimè chi paga questa la mancanza di rappresentanza la rappresentatività dei territori a Roma e al Parlamento guarda caso purtroppo le province autonome di Trento e Bolzano avranno più rappresentanti in Parlamento piuttosto che il Friuli e il Friuli chi pagherà l'assenza di propri rappresentanti sono e saranno quelle piccole regioni come il Friuli che si vedrà dimezzata la presenza in Parlamento e di conseguenza la rappresentanza territoriale non ci sarà potevano essere fatte altre scelte sicuramente ci potevano essere dei maggiori risparmi scegliendo altre tipologie di intervento piuttosto che mandare a casa 350 parlamentari che comunque potevano rappresentare per la nostra regione una presenza fondamentale purtroppo in me si è scelto la come posso dire la gran cassa mandiamo a casa i 350 parlamentari come che fosse la soluzione di tutti i mali non era questa la strada che si doveva scegliere ci torneremo anche perché ovviamente le opinioni sono discordanti ma anche questo è il bello della discussione grazie a Tiziano Centis per essere stato con noi consigliere regionale tra le file dei cittadini ancora una notizia sciopero del personale delle autostrade domenica 13 lunedì 14 ottobre l'agitazione è stata proclamata dalle sigle sindacali e riguarderà tutto il personale ma con modalità diverse il personale turnista di Autovie Venete della manutenzione impianti ausiliaria la viabilità e manutenzione d'urgenza si asterrà dal lavoro 4 ore per ogni turno dalle 10 alle 14 dalle 18 alle 22 di domenica dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 14 ottobre garantendo comunque i livelli minimi di servizio fa sapere la concessionaria autostradaria rifiuti ingrombranti e amianto blitz della guardia di finanza questa volta a Venezia andiamo a Murano due aree per un totale di 1000 metri quadrati all'interno circa 200 metri cubi di rifiuti abbandonati tra cui anche Ethernet e altri materiali pericolosi il tutto è stato posto sotto sequestro nei giorni scorsi dai militari del reparto aereo navale della guardia di finanza nel corso di un controllo del territorio a Murano in località Sacca Serenella nello specifico i finanzieri hanno notato cumuli di materiali in stato di abbandono in prossimità di un edificio in fase di ristrutturazione di proprietà di una società impegnata nella produzione e lavorazione di vetro artistico i sospetti dei militari hanno avuto conferme con un successivo sopralluogo aereo dalla ricognizione infatti è subito scaturita l'ipotesi della presenza di amianto considerato anche il fatto che proprio in località Sacca Serenella sono in corso delle bonifiche di strutture con le coperture costituite in fibro cemento il successivo controllo sul posto ha permesso ai finanzieri del reparto navale di riscontrare la presenza di una grande quantità di rifiuti pericolosi ammassati nonché di rifiuti urbani ingrombranti il cui deposito non autorizzato ed incontrollato comporterà delle responsabilità di natura penale il proprietario dell'area dell'edificio è stato denunciato all'autorità giudiziaria nel frattempo proseguono gli accertamenti dei finanzieri anche con il supporto dell'ARPAV sulla natura dei rifiuti abbiamo parlato prima della retroattività dell'IVA sulle patenti però anche il tema delle pensioni il tema dei pensionati resta più centrale che mai soprattutto poi alla vigilia ormai manca poco di una finanziaria pronta per essere approvata Giovanni Rampogna il cittadino lei che rappresenta il cittadino da un lato ma anche il pensionato dall'altro che sentore ha e soprattutto c'è una rappresentatività per quanto riguarda gli anziani e i pensionati lo Stato italiano sta diventando uno Stato di pensionati di vecchi di anziani e i governi che si susseguono fanno altro che toccare attingere risorse economiche dalle tasche dei pensionati io sono in pensione da parecchi anni però la mia pensione è rimasta ferma lì qualche aumento qualche euro in più qualche euro in meno ma sempre lì fortuna vuole che noi abbiamo una vita non da cicala ma da formica e quindi sono certo che noi ce la facciamo ma ci sono persone in Italia e nella nostra provincia e nella nostra regione che non sono in grado di far fronte al costo della vita perché il carrello della spesa costa sempre di più e c'è sempre meno roba sempre meno prodotti c'è da dire che anche le associazioni di volontariato le parrocchie stanno vicine poi in tanti comuni in tutti i comuni anche del nostro nordeste però poi chi magari non ha la fortuna di avere un familiare che aiuta il pensionato e chi deve solamente far fede a quell'assegno di pensione che è così basso e lì la cosa diventa difficile diventa difficile e drammatica anche perché poi se succede qualche cosa in famiglia di malattie di lunghe degenze e quant'altro ci troviamo di fronte a una mancanza continua costante di risorse economiche le risorse economiche poi signor direttore qua bisogna parlarci chiare anche nel senso che le pensioni non sono state regalate sono conquistate con tanto lavoro con tante ore di lavoro e poi è lì che la politica dovrebbe intervenire dovrebbe intervenire e garantire una pensione adeguata a far una vita migliore dignitosa al pensionato e alla sua famiglia per concludere credo che si possa dire che se questo governo non mette mano al miglioramento economico delle pensioni evidentemente si ripercorre si ripercorre la strategia governativa di tutte le altre e io non ho pochi anni ne ho non sono tanti però ne ho passati di governi ne ha viste insomma ne ho viste e sempre hanno dato risposte negative ai pensionati anzi quando si trattava di fare dei prelevamenti andavano ad attingere sulle pensioni dei pensionati e quindi vecchio alza la testa che il potere te la rompe grazie a Giovanni Rampogna il cittadino grazie per essere stato in nostra compagnia allora cambiamo argomento andiamo a parlare della firma del protocollo tra regione e ufficio scolastico regionale le dichiarazioni dell'assessore Graziano Pizzimenti abbiamo firmato il protocollo io alla direttrice scolastica regionale che dà la possibilità per tre anni consecutivi poi anche rinnovabili quindi c'è anche un tempo sufficiente per la programmazione anche di questo tipo di intervento e dà continuità a quello che è già stato fatto gli anni scorsi sulla sicurezza stradale ma di che tipo quella che dà la possibilità ai ragazzi ai giovani quelli che vanno a scuola anche dall'elementare in poi di capire quali sono le azioni corrette e giuste per andare a scuola per andare sulla strada per andare in bicicletta per andare tranquillamente da soli magari col percorso casa-scuola e questo non è solo che riguarda la sicurezza ma riguarda anche la sostenibilità infatti si chiama un progetto di sostenibilità che vuol dire che tutto all'interno compare cioè vuol dire capire che sia una riduzione dell'inquinamento sia la sicurezza sia la certezza di arrivare a casa e a scuola insomma tante cose messe assieme c'è la salute perché andare in bicicletta anche vuol dire salute quindi un progetto completo e complessivo che secondo noi ha una prospettiva di lungo periodo molto ma molto interessante con noi Beppino Nosella di Open Sinistra FWG abbiamo sentito anche le parole di Giovanni Rampogna anche in precedenza quella di Tiziano Centis cioè sembrano temi un po' così non all'ordine del giorno nelle agende politiche perché si parla di Europa perché si parla di manovre finanziarie perché si parlano di grandi numeri però poi alla fine c'è il quotidiano c'è il problema della gente c'è la difficoltà insomma di chi fa fatica a sbarcare Lunario di qualsiasi età forse è anche questa la tematica dell'oggi e di cui la politica fa fatica ad occuparsi trasversalmente senza farne di alcun colore politico magari a cominciare anche dalla sinistra visto che in questo senso sono stati i temi questi forti della sinistra di tanti anni fa cosa ne pensa? Sì purtroppo l'ho detto più volte abbiamo una politica diversa dai primi anni 90 si credeva che avremmo avuto una seconda repubblica con l'elezione e col governo gialloverde sembrava che entrava la terza repubblica ma in realtà secondo me non è che si fanno nuove repubbliche si fanno dei passi indietro non abbiamo più la capacità di mediare a livello europeo non abbiamo più la capacità di mediare a livello mondiale vediamo adesso con il problema dei dazi che andremo ad avere delle grosse difficoltà per alcune aziende italiane è logico che l'Europa dovrà insieme reagire ai dazi perché non può un solo Stato reagire da solo però questa è la nuova politica che fanno a livello mondiale non ci si può più pensare come pensano alcuni politici che la politica venga fatta da un singolo Stato ormai bisogna trovare delle dinamiche diverse e l'Europa deve muoversi tutta insieme per difendersi da queste nuove situazioni economiche difficili perché se noi guardiamo da un lato l'America dall'altro lato la Cina e dall'altro lato ancora la Russia sono tre blocchi che purtroppo condizionano l'economia e la piccola azienda che si può trovare anche nella sperduto sud o in qualche monte lontano si trova in difficoltà perché altri hanno deciso e sono passati sopra all'economia di questa piccola azienda Senta cambiando argomento so che ci sono delle novità da un punto di vista previdenziale o comunque legato alla previdenza per delle categorie anche legate a chi ha per esempio un'invalidità Sì purtroppo ogni anno le persone che hanno un'invalidità o una pensione di invalidità devono fare una comunicazione all'Inps che si chiama tecnicamente ICRIC Da quest'anno non c'è stato l'accordo tra l'Inps e i CAF di tutti i CAF pertanto la consulta dei CAF e purtroppo i cittadini dovranno recarsi pazientemente il termine è il 28 febbraio 2020 però è meglio che i cittadini inizino a prendere gli appuntamenti all'Inps per andare a fare questa comunicazione che dovranno comunicare se lavorano dovranno comunicare se hanno vissuto all'estero devono comunicare se hanno delle rendite diverse dagli anni precedenti è una comunicazione obbligatoria appena la sospensione della pensione di invalidità e pertanto è un disagio che hanno i cittadini tutte queste cose qui purtroppo sono dei servizi che vengono dati ai cittadini perché andare in un luogo singolo a fare questa comunicazione si creeranno delle code invece prima i cittadini potevano andare dal loro CAF di fiducia per fare questa comunicazione e pertanto diventava una cosa molto più snella e molto più semplice perché logicamente l'Inps non andrà a pagare i CAF perché logicamente l'Inps pagava i CAF che davano questo servizio per conto dell'Inps e pertanto lo Stato risparmierà dei soldi però non è così che si trovano le soluzioni per recuperare del denaro il governo è fortemente in difficoltà io personalmente speravo anche che lo spread scendesse di più dei 150 invece continua a balonzolare lì io speravo tanto che scendesse sotto i 100 perché così l'economia avrebbe avuto un rimbalzo diverso e invece siamo ancora lì fermi molto probabilmente questo governo ancora non sta dando la piena fiducia ai mercati bisogna dargli un po' di tempo per carità però questa è la tendenza dice lei purtroppo questa è la tendenza grazie a Peppino di Open Sinistra Fiuli Venezia Giulia andiamo subito ad Udine dove c'è Serena Pellegrino del direttivo nazionale Liberi e Uguali con il collega Omar Costantini il taglio dei parlamentari è un oggetto di discussione e non potrebbe essere altrimenti a voi la linea c'è giusto il studio l'onorevole Serena Pellegrino per parlare visto che siamo anche in un momento di aperitivi di tagli dei parlamentari mi permettete la battuta chiaramente ieri è stata approvata insomma dalla Camera con un voto bulgaro possiamo dire usando un vecchio concetto il via libera insomma alla legge chiaramente non è che da domani mattina tutto cambia perché ci sarà sicuramente poi un altro iter burocratico di passaggio e poi sarà da capire mi permette con che legge eventualmente elettorale andremo a votare però sta di fatto che con questa attuale legge elettorale il Friuli Venezia Giulia esce con la ossa rotta sì assolutamente perché da 20 parlamentari passeremmo a 12 parlamentari 8 deputati e 4 senatori così a spanne avremmo 3 collegi nominali probabilmente perché è impossibile farne 5 come era prima per la Camera questo dico quindi 3 rimarrebbero 5 liberi nel proporzionale quindi 1 per ogni partito grande e il quinto così che va a scattare probabilmente fa scattare il secondo perché i piccoli sono completamente cancellati e come si dice obiettivo raggiunto si taglia la testa si taglia la coda resta soltanto i grossi partiti e per noi questo è non solo per noi come partito piccolo ma assolutamente come minoranze e come rappresentanza anche per le aree montane per esempio il frio di Venezia Giulia rimane veramente penalizzato su questo taglio senta si taglia da una parte però poi c'è da capire come verrà distribuito il dopo nel senso che si elimina un parlamentare diciamo così dalla corsa verso lo scranno romano però dall'altra parte non si è capito poi cosa succederà con le varie segreterie post segreterie addetti stampa portavoce portaborsa e via dicendo vabbè quello rimane rimane sostanzialmente uguale noi abbiamo fatto un conteggio qua sembra quasi che sia stato risparmiato il mondo sono 500 milioni che sembra una cifra enorme ma che ripartiti su 50 milioni più o meno di elettorato passivo si viaggia più o meno sui 10 euro a legislatura di risparmio allora sinceramente io per avere la rappresentanza del mio territorio in Parlamento sono anche disposta a dare 2 euro all'anno per poter avere quanti 8 abbiamo detto parlamentari in più il problema grosso rimane la legge che è stato votato questo taglio ai parlamentari contro la mia adesione lo dico chiaramente io sono stata tra una dei dissidenti all'interno del mio partito su questo argomento è stato firmato questo accordo di programma dove c'era anche questa quarta lettura da votare diciamo pure che se dovesse andare in porto una legge proporzionale noi vorremmo che non ci fossero sbarramenti quanto meno e quindi che ci fosse una rappresentanza su tutto il territorio nazionale anche dei cosiddetti piccoli senta abbiamo ancora un minuto perché poi devo passare la linea ai colleghi giustamente di Pordenone da profano le chiedo ci potrebbe essere non so dico un refer è una richiesta di referendum popolare possiamo dire che c'è già una richiesta di referendum popolare contro questa legge domani ci sono quattro senatori che faranno una conferenza stampa per la richiesta del referendum per abrogare questa norma potrebbe anche essere comunque che contestualmente e questo sarà auspicabile perché molte forze politiche si stanno già attrezzando che ci sia la raccolta del 500.000 firme per poter ottenere ulteriormente il referendum esattamente come ha fatto Renzi se vi ricordate Renzi ha fatto la richiesta delle firme è stata accettata ed siamo andati al referendum e Renzi ha perso bene grazie all'onorevole Pellegrino io ripasso la linea immediatamente a Pordenone poco fa si è conclusa a Pordenone la messa per celebrare l'avvio dell'anno scolastico alla presenza del vescovo della diocesi di Concordia a Pordenone il monsignor Giuseppe Pellegrini allora a tempo di record c'eravamo anche noi sentiamo il vescovo grazie anche alla collega Agnese Nascinben che davvero a tempo di record ha confezionato e realizzato il servizio Vescovo oggi lei presiederà la Santa Messa per celebrare l'avvio dell'anno scolastico 2019-2020 ecco secondo lei che ruolo ha adesso la religione nell'istruzione io direi prima ancora che è importante che le varie istituzioni si trovino insieme perché insieme allora si possono valorizzare tutti gli aspetti della persona umana c'è quella intellettuale c'è quella affettiva c'è quella fisica ma c'è anche questa dimensione spirituale che noi che io credo ma che tanti ti credono sia importante e necessaria per la crescita ed il bene della persona quindi è bello che ci troviamo insieme e le diverse istituzioni proprio per augurare ai nostri giovani che iniziano quest'anno scolastico di viverlo pienamente valorizzando tutte queste opportunità e doni che la società offre a loro Quali era l'occasione per fare con lei anche una sorta di riflessione la scorsa settimana il ministro Fioramonti ha dichiarato che al posto del crocifisso secondo lui nelle aule sarebbero meglio le cartine geografiche lei come commenta questa dichiarazione è stata commentata subito dopo da alcune smentite che ci sono credo che non sia questo il problema principale oggi della scuola ce ne sono ben altri che è giusto affrontarli il nostro signore ama tutti quanti quindi non c'è problema un augurio a questi ragazzi che studino e che si impegnino e che crescano seriamente cambiiamo argomento parliamo di agricoltura andiamo subito in Veneto con il collega GP Giovanni Paccolig con il suo ospite che saluto Buonasera anche dalla redazione del Veneto in studio con noi questa sera Matteo Bortolussi agricoltore torniamo a parlare del tema della cimice asiatica che colpisce molto questo territorio ovvero Matteo certo senza dubbio ne abbiamo parlato circa dieci giorni fa eravamo stati un po' precursori dei tempi nel senso che adesso in questi giorni ne stanno parlando anche a livello nazionale è un problema non solo del Veneto anche di altre regioni limitrofe e anche più lontane e colpisce in particolar modo i produttori di ortofrutta che è un settore trainante per l'agricoltura diciamo nazionale e lo sarà sempre di più nel senso che comunque è un settore che anche per i giovani imprenditori può dare un futuro perché dà un reddito superiore rispetto alle altre culture con questo problema della cimice asiatica purtroppo molte aziende diciamo che producevano ortofrutta anche nel nostro territorio hanno deciso di abbattere gli alberi quello che dicevamo 15 giorni fa e sembra che comunque lo Stato e la Regione stiano andando in verso quella direzione è di lavorare e di investire per gli insetti oppositori utili perché questa cimice è molto resistente alle temperature invernali e l'unica soluzione diciamo ecocompattibile che può permetterci di combattere appunto questi insetti oppositori io posso portare una mia esperienza personale nel mio settore diciamo nelle sere quest'anno per la prima volta ci siamo difesi dai parassiti utilizzando degli altri insetti che a loro volta eliminavano questi e ci ha dato dei eccellenti risultati perché gli insetti sono quasi scomparsi quelli che sono nemici della frutta diciamo della verdura e soprattutto non abbiamo usato pesticidi quindi il prodotto finale è un prodotto di qualità è un prodotto sicuro che non viene a contatto con degli antiparassitari che magari all'uomo non fanno niente ma comunque è meglio sempre usarne il meno possibile ecco si parlava però che per attuare questa politica ovvero sia andare con metodi naturali contro la cimicia asiatica e per insediare questi insetti a vasta area ci vogliono 5 anni cosa si fa in questi 5 anni? purtroppo bisogna accelerare la produzione di questi insetti ci sono delle aziende che si sono messe a produrli diciamo e bisogna aiutarle bisogna aiutarle perché abbiano delle risorse perché comunque fare un insetto oppositore non è un gioco da ragazzi ci vogliono ci vogliono ingenti risorse quindi bisogna sicuramente aiutare queste queste aziende ed aiutare nel contempo con dei contributi ad hoc le aziende in difficoltà che appunto hanno dei problemi con questa cimicia questa è l'unica soluzione che possiamo adottare ecco come ultima domanda dove voglio fare questa si parlava soprattutto in Emilia Romagna che è una zona forse la più molto pestata da questa disgrazia di una media del 50% delle pere perché l'Emilia Romagna è la regione leader in Europa sulla produzione di ortofrutto e di pere esatto si parla dal 30% all'80% con una media del 50% cosa possono fare gli agricoltori che si vedono dimezzato se non addirittura l'80% di prodotto non ci sono molte soluzioni bisogna che intervenga la comunità europea con i contributi diciamo comunitari ad aiutare queste aziende in difficoltà ci sono aziende nel nostro territorio anche qua vicino che hanno proprio deciso di abbattere gli alberi quindi non hanno trovato una soluzione quel reddito che avevano non ce l'hanno più quindi sicuramente gli agricoltori che hanno questo problema hanno delle difficoltà a stare in piedi a sopravvivere veramente importanti bisogna che la regione appunto con i fondi comunitari ci dia una mano e che i comuni nel loro piccolo facciano la loro attività come ha fatto San Michele anche gli altri comuni facciano delle normative e diano degli aiuti per questo settore perfetto ringraziamo Matteo Portolussi che è stato in nostra compagnia questa sera e la rinator alla redazione di Porverone da Portoguaro a Sacile perché si parla del sottopasso di stazione arriva RFI ben trovato all'assessore comunale Roberto Ceraulo nei prossimi giorni sì per martedì prossimo è stato fissato un appuntamento con i tecnici di RFI che insomma riuscirà a dare la via definitiva alla progettazione per questo sottopasso ciclopedonale che risolverà l'ultimo passaggio a livello esistente in Friuli Venezia Giulia sulla linea Venezia-Udine penso che in Veneto ci sia ancora quello di Pianzano salvo altri ma non penso che ce ne siano altri e in Friuli Venezia Giulia c'è quello di Sacile allora per le condizioni proprio per la conformazione urbanistica lo stato dei luoghi era impensabile realizzare un sottopasso anche carrabile e quindi la soluzione è stata quella da un lato di portare avanti una viabilità alternativa e dall'altro di in sede naturalmente laddove la gente è abituata a transitare di realizzare questo sottopasso ciclo pedonale nella convenzione perché questa sa l'Italia sempre ecco c'era una convenzione madre tra la regione RFI poi tutta una serie di convenzioni tra RFI e i singoli comuni e in queste convenzioni non era mai stato definito seppur era richiamata la necessità di chiudere questo passaggio a livello non era mai stato definito chi dovesse sostenere gli oneri per la realizzazione dell'opera alternativa ecco a questo siamo riusciti nei mesi scorsi a trovare la svolta definitiva lo pagherà RFI quindi sarà interamente a carico loro mentre noi completeremo con la gronda est ma con tempi che saranno diciamo diversi rispetto alla realizzazione di questo sottopasso la gronda est partirà già tra un anno avremo il cantiere speriamo che ci possa essere il cantiere anche di questo e quindi daremo la definitiva soluzione ad un problema che angoscia moltissimo non solo gli automobilisti perché insomma gli automobili magari possono fare ma soprattutto pedoni e ciclisti perché ci sono delle interruzioni dovute al fatto che la sicurezza deve essere ovviamente messa al primo posto sempre i controlli vengono fatti da mestre e quindi ci sono dei momenti in cui è capitato anche a me recentemente ho incontrato una signora ecco ero a piedi volevo andare a piedi da qualche centinaio di metri e ho detto sa a quest'ora qui capita che rimane chiuso anche 40-45 minuti tra l'altro c'erano state anche delle polemiche ricordo infinite infinite ecco quindi oggettivamente per chi rimane lì dice che ritiene che seppur in totale sicurezza ma la gestione potrebbe essere la gestione del passaggio a livello potrebbe essere anche un pochino differente perché ci sono delle pause davvero lunghe ma ci sono stati un'infinità di incontri il sindaco Carlo Spagnolo ha convocato un tavolo anche recentemente ma insomma su questo sulla sicurezza di non si transige e quindi bisognerà dare il via a quest'opera alternativa martedì prossimo avremo dato l'avvio teneteci informati cerchiamo di seguire anche noi su come andrà questo incontro perché ovviamente anche ai cittadini di interessa grazie grazie a Roberto Ceraulo per essere stato in nostra compagnia altro argomento forte quello dell'autonomia differenziata e sentiamo allora il governatore del Veneto Luca Zaia che sulla questione ovviamente non demorde ha intervenuto oggi guardi questo governo deve ancora dirci qual è la propria idea di autonomia noi ci confrontiamo sapendo di aver già presentato la bozza d'intesa che ha 68 articoli chiede 23 materie esattamente in linea con la Costituzione il governo ci dica cosa vuol fare prevede difficoltà su temi come scuola che sono particolarmente delicati su cui magari ci sono posizioni diverse anche tra presidenti del nord guardi io non ho la dote della lettura del pensiero e le dico anche che come se entrassimo in un ristorante lei mi chiedesse ma prevede difficoltà nel trovare quell'antipasto piuttosto che quella portata le dico ci portino il menù e poi le so dire andiamo in Veneto abbiamo sentito il governatore del Veneto Luca Zaia parliamo di politica ci trasferiamo a Porto Gruaro con Giovanni Paccolig riprendiamo la linea da Porto Gruaro a sede della redazione del Veneto in compagnia di Enrico Zanchi consigliere comunale di Porto Gruaro proprio per Forza Italia dunque Enrico qual è il futuro di Forza Italia sul territorio? Allora io intanto saluto i telespettatori di Teleporto None e ringrazio di questo invito vorrei evidenziare Forza Italia cosa è sempre stata il pensiero ideologico di Forza Italia è basato su riferimenti culturali riconducibili al moderno conservatorismo liberale e alla tradizione moderata e riformista italiana le tesi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica trovano spazio nella concezione secondo la quale la famiglia sia il nucleo centrale e fondamentale della società e nella difesa del primato della persona in ogni sua consapevole espressione questi sono i principi alla base di Forza Italia e del suo esistere da questa posizione poi si sviluppano tutte le materie economica politica e sociale del partito attualmente Forza Italia sta attraversando un momento particolarmente delicato dovuto dalla necessità di riproporsi qual è sempre stata una forza politica costruttiva e propositiva per lo sviluppo e il benessere del popolo italiano conscia degli errori e delle disattenzioni commesse in passato ma convinta di poter contare su quella rete preziosa e insostituibile di sindaci amministratori consiglieri comunali rappresentanti delle diverse categorie produttive dell'associazionismo e del volontariato che sono sempre stati e sempre saranno la spina dorsale comunque il partito è unito e coeso e a breve valorizzerà quel patrimonio di persone stimate che provengono da tutti i settori economici politici culturali e sociali che hanno un loro personale consenso e che godono della fiducia stima ed ammirazione dei loro concittadini attraverso il riconoscimento tangibile del loro operare quotidiano queste persone consentiranno a Forza Italia di avviare una rinnovata azione politica di forza moderata e riformista in grado ancora una volta di far uscire l'Italia da questa situazione di assoluta crisi istituzionale mancanza di valori e di fiducia da parte della nostra gente concludo affermando che Forza Italia è forte e coesa è leale verso tutti in particolare verso le forze politiche alleate perché siamo convinti che uniti e rispettosi dei propri ruoli e delle rispettive identità si ottiene la fiducia della nostra gente e così si va lontano perché ci vedono affidabili e meritevoli di essere alla guida dell'Italia come abbiamo battuto ovviamente apriamo il raggio è stato votato ieri il taglio dei parlamentari forse Italia ha dato il sì ha votato insieme al governo ma c'è un grosso problema di rappresentatività soprattutto nelle regioni piccole dal suo punto di vista qual è il parere abbiamo già sentito esponenti che ieri hanno votato tipo l'EU da Udine o comunque anche esponenti del PD che hanno detto sì ieri abbiamo votato e domani firmiamo per fare il referendum qual è la sua opinione riguardo a questo taglio dei parlamentari la mia opinione è quella che questo taglio non è la soluzione dei problemi che ha l'Italia certamente un eletto al Parlamento rischia di sparire dal territorio è logico che viene meno la rappresentanza del territorio al governo e in Parlamento questo è un fatto grave non credo che con il risparmio di qualche centinaio di migliaia di Euro qualcuno dice un miliardo di Euro nel contesto di una di una legislatura non credo che quello sia la risoluzione dei problemi in Italia dal mio punto di vista io credo che i risparmi nella spesa corrente dell'Italia si possono tranquillamente fare in altri settori ecco io credo che il taglio a questa legge senz'altro non migliorerà la possibilità operativa dei parlamentari del nostro Parlamento perfetto ringraziamo Enrico Zanco consigliere comunale a Porto Gruaro per Forza Italia la linea torna alla redazione centrale noi ci vediamo dopo la parte della redazione Friuli sempre qui dalla redazione del Veneto a dopo grazie Giovanni ovviamente noi invece parliamo del crack delle banche venete il famoso crack delle banche venete con l'avvocato Margherita Cusin del Codacons Friuli Venezia Giulia ben trovata grazie avvocato perché insomma per quanto riguarda il fondo dei risparmiatori c'è ancora tempo però non molto insomma bisogna intervenire esatto ne abbiamo già parlato ma ci tenevo a ricordare che appunto i termini stanno non manca molto alla scadenza nel senso che il decreto che è diventato legge che è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 21 agosto prevede che ci siano 180 giorni per fare la richiesta a partire dal 22 agosto perciò tutti coloro che hanno investito in azioni o obbligazioni delle cosiddette banche venete quindi in particolare nel nostro territorio Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza devono affrettarsi e prendere tutte le informazioni per procedere con la richiesta di rimborso ricordo che la norma prevede un rimborso fino al 30% per le azioni e fino al 95% per le obbligazioni come si procede con la richiesta allora la richiesta si effettua online e gratuita può essere fatta dal risparmiatore oppure da un suo delegato nella richiesta bisogna allegare un'attestazione del possesso delle azioni o obbligazioni da reatto se nel passato si è avuto il rimborso e poi ci sono delle condizioni che garantiscono una priorità e sono tre l'aver investito meno di 50.000 euro avere un reddito annuo non superiore ai 35.000 euro e un patrimonio mobiliare non superiore ai 100.000 euro bisogna fare delle autocertificazioni e indicare l'Iban che deve essere intestato al risparmiatore sul quale va fatta la richiesta di rimborso occorre che l'Iban venga certificato dalla banca comunque per ulteriori informazioni la Codacon sfiderà tutte le delucidazioni del caso e affrettatevi a raccogliere la documentazione per evitare appunto di incorrere nella scadenza dei termini dopo la quale non si potrà presentare questa istanza sono moltissimi e la cosa negativa è che molti non stanno facendo nulla invece è utile appunto sfruttare questa possibilità questa norma che è stata tanto dibattuta tanto discussa finalmente dopo mesi si è avuto l'ok e quindi è bene che tutti gli interessati si interessino prendano informazioni recupero nei documenti necessari purtroppo i coinvolti sono tanti il 30% di rimborso non è tantissimo però comunque può essere un buon compromesso rispetto al non avere nulla perché ad oggi le azioni appunto non valgono niente quindi ripeto prendete tutte le informazioni del caso perché mancano poche settimane al termine grazie Margherita Cusino avvocato del Codacons per essere stata con noi e noi andiamo a Sacile perché insomma c'è stata una mostra dedicata alle leucemie come ci racconta nel servizio il collega Boscareola allora andiamo al centro commerciale i Sacili caro Presidente siamo arrivati ormai al dunque sabato l'inaugurazione di questa tanto attesa e mostra dei 50 anni dell'Aile ma non è solo il momento per l'Aile ma anche il momento nazionale momento anche nostro dell'Aile provinciale diciamo che rappresentiamo i 50 anni dell'Aile nazionale però nello stesso tempo abbiamo voluto raccontare anche la nostra storia l'Aile il Pordenone che compie i 19 anni e grazie alla disponibilità del centro commerciale i Salici la mostra partirà venerdì dal 12 fino al 20 ottobre potete venire a vedere l'Aile cosa ha fatto in questi anni la mostra è aperta a tutti e chiaramente colgo l'occasione per invitare tutti a vedere ringraziamo il direttore del centro commerciale i Salici il dottor Zampieri è stato molto importante questo gioco di squadra che ha coinvolto tanti volontari ma soprattutto il dottor Zampieri oltre a ospitarci è anche ideatore di questa bellissima loccandina dove si evidenziano i volontari perché questo è anche lo scopo vero direttore? Sì sono anni che collaboriamo con l'Aile con diverse attività quest'anno abbiamo colto al balzo l'occasione la richiesta del presidente abbiamo deciso di premiare tutti i volontari che in questi anni si sono dedicati e hanno permesso di raggiungere i risultati all'Aile di Pordenone ringraziamo tutti quanti ricordiamo sabato mattina 10.30 inaugurazione presso il centro commerciale di Salici per due weekend di seguito andate a visitare questa mostra che ci sono cose interessanti non per apparire come il nostro motto ma per informare grazie a tutti e sono tanti gli imprenditori che si chiedono che cosa accadrà nella situazione relativa ai Dazi ma non solo ne parliamo con Alvaro Cardin grazie per essere con noi perché è un tema che davvero non si sa dove ci porterà e soprattutto che futuro garantirà a tanti imprenditori a tante imprese che lavorano con l'estero Il problema dei Dazi è evidentemente un problema che si colloca diciamo in un contesto universale le grandi diciamo manovre che sono in atto fra la Russia la Cina e ovviamente gli Stati Uniti in particolare quest'ultimo ha diciamo così cavalcato e sta cavalcando una impostazione che a parer mio è quanto mai delicata e anche per certi aspetti pericolosa però c'è un dato che naturalmente ci riguarda più da vicino e per alcuni aspetti siamo riusciti in parte e solamente in parte ad evitarlo perché alcuni settori sono stati diciamo così all'ultimo momento esonerati da questo tipo di problematica però il problema di fondo è quello di trovare diciamo così i giusti equilibri di livello appunto mondiale che non abbiano diciamo così a ripercorrere le guerre del passato che riguardavano appunto un modo assai perverso di concepire gli scambi di carattere commerciale quindi sotto questo profilo il discorso di Dazi va ricondotto a una normativa diciamo così di carattere planetario che non giustifichi quelle che possono essere come lo sono e come si stanno manifestando guerre vere e proprie dal punto di vista economico migranti altra questione insomma all'arribata in Frivenezia Giulia ma non solo anche nel vicino Veneto ma anche a livello nazionale cosa ne pensa delle ultime per quanto riguarda i migranti i migranti alla storia di migranti la storia di migranti è evidentemente estremamente complessa le drammaticità diciamo così delle situazioni che stanno venendo avanti e che si stanno appunto manifestando in maniera sempre più drammatica ripeto ecco sono diciamo sotto gli occhi di tutti io credo che noi a un certo punto l'ho già detto anche in altre circostanze forse dovevamo stare un momentino più attenti anche come nuovo governo rispetto diciamo così alle iniziative da intraprendere e di guardare diciamo così con maggiore cautela e maggiore attenzione a quelle che potevano essere le solidarietà non solo degli europei ma anche naturalmente del resto del mondo con particolare riferimento all'ONU quindi sotto questo profilo il discorso dei migranti va diciamo così riconsiderato e soprattutto trattato a tutela anche di quello che è il nostro paese a tutela perché perché evidentemente noi va bene possiamo sobbarcarci certamente un certo tipo di quantità anche di migranti ma non possiamo evidentemente pensare alle quantità enormi spropositate immense che a un certo punto verrebbero avanti con una politica che a un certo punto non diventi rigorosa attenta e soprattutto frenante rispetto diciamo così a quelle che sono le politiche attuali quella che conta è sempre stato detto in più circostanze e credo non solamente da sottoscritto anzi ci mancherebbe molto più autorevoli di me anche lo hanno affermato sono quelli gli aspetti diciamo così di mantenerli laddove va bene partono laddove a un certo momento risiedono quindi sotto questo profilo io credo che la politica diciamo debba riflettere seriamente su come aiutarli a rimanere a casa loro ecco un'ultima poi chiudo perché davvero i tempi ormai sono verso il termine parlando di politica visto che lei di politica ne ha vista insomma e non poca questa legge sul taglio dei parlamentari ma io credo che ci sia sullo sfondo di tutto da quanto questa operazione una componente demagogica va bene non trascurabile anzi è evidente però io credo che a un certo punto sotto questo aspetto si debba riconsiderare non tanto la questione diciamo dei numeri quanto la questione della qualità della rappresentatività e quindi qualità significa capacità dal punto di vista diciamo così culturale di riscoprire di capire di interpretare quelle che sono le autentiche esigenze della gente la gente qualche volta anche recentemente evidentemente per tutta una serie di ragioni ha criticato quello che appunto viene definito il cosiddetto poltronificio non è proprio esattamente così quando noi vediamo per esempio tante volte le aule vuote di Montecitorio o del Senato ecco non sappiamo che magari in contemporanea ci sono tutta una serie di commissioni operanti bisogna anche incominciare ad avere più rispetto e più considerazione per le persone che ci rappresentano quindi sotto questo profilo ci sono sicuramente delle persone che evidentemente non fanno proprio il proprio dovere fino in fondo però bisogna stare molto attenti di non precipitare nel discorso diciamo così di carattere demagogico che appunto riguarda in particolar modo il fatto di un risparmio un risparmio che è assolutamente direi insufficiente inadeguato e comunque sproporzionato a quello che a un certo punto dal punto di vista remunerativo percepiscono a incominciare dei barbieri per dire del Parlamento per non parlare delle altre categorie di operatori che appunto stanno diciamo così all'interno di questo sistema di governo o di gestione diciamo così della cosa pubblica grazie Grazie Alvaro Cardin per essere stato con noi e prima di chiudere questa prima parte del telegiornale un'ultima ora perché parlando dei tragici fatti di Trieste ci sarebbero dubbi anche sulla rapina del motorino da parte del dominicano che si trova in carcere avvenuta alle 6.40 di quel tragico venerdì una testimone oculare che ha chiesto di rimanere anonima avrebbe rivelato alla stampa locale che il dominicano sarebbe stato in sera al motorino assieme alla presunta proprietaria del mezzo e avrebbe indossato il casco qualche metro più avanti Alejandro Meran il dominicano appunto di 29 anni che si trova in carcere a Trieste con l'accusa di omicidio l'avrebbe spinta brutalmente a terra impossessandosi scappando celermente con lo scooter dunque c'è una versione discordante cercheremo di capirne di più anche nelle prossime edizioni del telegiornale con il collega Omar Costantini che ringrazio per la notizia prima di salutarli vi ricordo che al termine del telegiornale parlando di sport abbiamo un'intervista ad Alberto Almici difensore del Pordenone Calcio e cercheremo anche di capire insomma le ultime novità sul fronte della società sportiva ma con questo è tutto vi lascio le nostre previsioni del tempo dopo il break pubblicitario l'informazione continua si va a Udine poi in Veneto grazie per averci seguito da Pordenone è tutto la serata resta ricca nei nostri schermi di Telepordenone certo con l'informazione certo anche con l'approfondimento a risentirci Buonasera buonasera a tutti cielo grigio oggi per l'avvicinamento del fronte che richiama area umida da sud ovest che rimane intrappolata sotto l'inversione termica quindi cielo coperto probabilmente in montagna mentre schierite un po' più frequenti su bassa pienura e costa nel pomeriggio anche qualche prima debole chioggia sparsa ma il fronte vero e proprio ce lo aspettiamo questa sera e questa notte con piogge più diffuse direi in genere comunque deboli o più moderate sulle zone occidentali un po' più abbondanti invece su quelle orientali in particolare sulle prealpi giulie domani mattina ancora prevalenza di cielo nuvoloso su pianura e costa dove sarà ancora possibile qualche locale rovescio temporale tempo migliore invece in montagna in carne in particolare con cielo in genere poco nuvoloso nel pomeriggio dovrebbe entrare vento di bora sulla costa il tempo tenderà a migliorare in serata avremo cielo direi poco nuvoloso poi per venerdì e per sabato sembra esserci bel tempo con rimonta dell'anticiclone che porterà probabilmente a tempo bello cielo prevalentemente sereno o al più poco nuvoloso in montagna è tutto buona serata ben ritrovati dunque gentili amici che la visione all'ascolto continua l'informazione su DPN cambio di campo da Pordenone passiamo a Udine avete già inquadrato Enrico Bertossi parleremo con lei nell'ultimo step della nostra pagina informativa prima come sempre il treno dei servizi per quanto riguarda quello che è accaduto da questa parte del Friuli sono stati condannati a 16 anni i due giovani che la sera del 3 febbraio scorso hanno fatto fuoco contro Manuel Bortuzzo e la sua fidanzata nella capitale i due imputati Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano per uno scambio di persona hanno esploso alcuni colpi di pistola contro il giovane atleta Friulano che a causa delle ferite ha perso l'uso delle gambe illesa la fidanzata il pubblico ministero Elena Neri aveva chiesto per i due aggressori in 20 anni i due sono stati processati con rito abbreviato e nella sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Roma Daniela Caramico D'Auria è stata disposta anche una provvisionale di 300 mila euro in parte civile domenica 13 ottobre l'associazione Amici dei Bastioni di Palmanova in collaborazione con l'amministrazione comunale e il forum Giovani Cittadini ha organizzato una gita fuori porta lungo i bastioni della città stellata una mattinata dedicata all'ambiente alla pulizia ma anche alla conoscenza rispetto per il verde che si concluderà alla lunetta napoleonica nei pressi di Porta Aquileia con un picnic e animazione il trovo previsto alle 10 in Piazza Grande sotto la loggia della Gran Guardia verranno consegnati i partecipanti i materiali per la pulizia prima delle 11 l'avvio a piedi dei gruppi verso i bastioni fino a giungere alla lunetta napoleonica suddivisi in gruppi comincerà l'opera di pulizia lungo il fossato e percorsi ciclopedonali sulla parte alta delle fortificazioni a fine pulizia ci sarà anche la visita al nuovo cartellone turistico che illustra gli animali delle fortificazioni con una breve spiegazione a misura di bambino il tutto si concluderà verso le 13 con il picnic sui prati oltre al pasto i bambini potranno e anche i grandi potranno partecipare ai giochi di gruppo visitare le gallerie della lunetta oppure una passeggiata verso Porta Udine alle gallerie del Rivellino e di bastione donato in caso di maltempo chiaramente l'iniziativa verrà rinviata adatta da destinarsi torna nel castello di Gorizia il fantasma della sanguinaria contessa Caterina più conosciuta come la dama bianca che in certe notti buia si aggira ancora lungo i bastioni del maniero in cerca di pace l'appuntamento organizzato dall'associazione nuovo lavoro con il supporto del comune è per sabato prossimo in cui si vedranno due apparizioni una alle 20 e una alle 21 con la dama bianca che sarà accompagnata da altre magiche creature la leggenda che continua a suscitare grande interesse nella gente affonda le sue radici nella notte dei tempi e ricorda la crudele moglie del conte Enrico a cavallo tra il 14esimo e 15esimo secolo Caterina era una donna avida e sanguinaria e dopo la morte prematura di suo marito si suppone avvelenato da sicari e degli estensi lei continuò a vivere nel castello in compagnia di un solo servitore Giuseppe il castello era difeso da sette feroci mastini che servivano a tutelare l'enorme tesoro che la contessa e il suo consorte avevano sottratto in modo non limpido ad altre persone solo Giuseppe conosceva dove il forziere di ferro era sottratto il favoroso tesoro non venne mai ritrovato e si narra che sia stato il diavolo stesso a portarselo con sé l'appuntamento comunque è per sabato prossimo con lo spirito della contessa che vedrà la partecipazione di Urban Twister le voci narranti di Andrea Janesch Francesco Monaco e Giada Agazzi ciò però dal personale dell'autostrade domenica 13 e lunedì 14 ottobre l'agitazione è stata proclamata a livello nazionale da Filt CGL Filt CISL Wiltrasporti Sla CISAL e UGL Trasporti e riguarderà tutto il personale ma con modalità diverse il personale turnista di Autovie Venete della manutenzione impianti centro radioinformativo ausiliario alla viabilità e manutenzione d'urgenza sottoposto alla regolamentazione di cui è la legge 146-90 si asterrà dal lavoro 4 ore per ogni turno dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 13 ottobre e dalle 22 di domenica alle 2 di lunedì 14 garantendo comunque i livelli minimi di servizio il personale turnista di esazione non sottoposto alla legge 146-90 potrà astenersi dal lavoro 4 ore per ogni turno dalle 10 alle 18 di domenica 13 ottobre e dalle 2 alle 6 di lunedì 14 il personale tecnico-amministrativo potrà astenersi dal lavoro le prime 4 ore lavorative di lunedì 14 ottobre partiranno a breve i lavori di manutenzione della roggia dei Molini corso d'acqua che scorre sul territorio comunale di Gemona il tratto interessato riguarda circa 6 km che parte dalla frazione di ospedaletto e arriva in via Paludo interventi a cura del consorzio di bonifica pianura friurana serviranno a ripristinare la sezione idraulica del corso d'acqua che a causa di infittirsi della vegetazione potrebbe comportare il rischio in caso di eventi meteorici particolarmente intensi di allagamento della viabilità degli immobili residenziali a breve l'ente partirà con le procedure di gara mentre l'avvio dei lavori più urgenti è programmato a partire dalla seconda metà di novembre per la manutenzione straordinaria della roggia saranno impiegati 300.000 euro che comprendono la pulizia di tutto il tracciato e nei mesi successivi la messa in sicurezza dei sifoni e la video ispezione e l'espurgo delle tratte intubate passaggio quest'ultimo che necessiterà di attrezzature con tecnologie specifiche l'ospicio alla fine è che vengano stanziati in futuro dalla regione Friuli Venezia Giulia ulteriori finanziamenti per attuare interventi manutentivi con cadenza al più biennale al finché fa sapere la presidente Rosanna Clochiatti di recepire le richieste in tal senso sia della popolazione che dell'amministrazione comunale torniamo in studio con l'ospita andiamo a chiudere la nostra pagina informativa da Udine Enrico Bertossi consigliere comunale prima Udine allora Bertossi possiamo girarci da quanto vogliamo purtroppo Sofia qui lei ci dobbiamo cadere ci dobbiamo cadere perché le strisce lei sa meglio di me sono state fatte in modo particolare qualcuno poi ha detto andiamo a cancellare perché le rifaremo insomma siamo davanti veramente a un clamoroso autogol da parte della giunta comunale un pasticcio che denota improvvisazione e confusione ma soprattutto denota che non hanno un disegno per la città per il centro storico della città noi siamo passati dall'idea appena eletto di Fontanini del tram idea fantasiosa perché sapeva benissimo di non avere i soldi per fare una cosa del genere però il tram doveva portare dalla stazione verso Via Mercato Vecchio Via Aquileia Via Mercato Vecchio fino in Chiaveris adesso invece con Via Aquileia ci hanno fatto vedere una dislocazione di parcheggi una restrizione alcareggiata che impedisce all'autobus di passare in Via Aquileia hanno già detto che chiuderanno anche agli autobus Via Mercato Vecchio spostando il tutto su Via Lungheria cioè un andamento schizofrenico che denota che non hanno nessuna idea di quello che sarà lo sviluppo futuro della nostra città Senta Bertossi ma perché nascono queste incomprensioni nel senso lei mi insegna da bravo politico navigato che la campagna elettorale si fa per tempo i piani di sviluppo in caso di elezione di vittoria si fanno un passettino alla volta però non è possibile che in corso d'opera il sindaco stesso smentisca il suo vice sindaco è perché Fotarini è furbo fa sempre così non manda allo sbaraglio i suoi assessori e poi fa finta di essere il salvatore della patria in realtà è lui il primo ad aver perso il controllo della situazione perché non avendo nessuna cognizione di quella che è la città di Udine fa la riunione con i commercianti in mezzo alla strada insieme a Michelini facendo vedere il progetto facendosi dire che servono più parcheggi approva probabilmente in giunta il progetto e poi smentisce invece il suo assessore appena tutta la città si mette a ridere perché il problema vero è che persino gli operai che hanno dipinto le strisce blu si sono accorti che era una cosa folle quella di fare i parcheggi in mezzo alla via Quileia restringendo la careggiata in maniera tale che non passa più l'autobus non passa più un mezzo io ho realizzato proprio lunedì un servizio su via Quileia e c'era tanta gente che mi chiedeva perché ero lì a riprendere e chiaramente gli ho spiegato il motivo e me l'ho preso per un blog con tutto rispetto per i blog però il discorso è che tanti effettivamente non riuscivano a capire le strisce pensavano fosse uno scherzo addirittura pensavano di essere scherzi a parte o in qualche trasmissione perché era talmente palese che due cose la prima che la pista ciclabile era troppo ridosso del parcheggio e quindi aumentando i rischi per i ciclisti in maniera esponenziale sulla falsariga delle critiche che ci sono a tutt'oggi su via Cosatini e via Zanon e l'altra cosa era che non ci passava più nessuno perché quella è una strada che ha bisogno di un passaggio di camion per il carico e scarico che ha comunque la necessità vitale come secondo me anche via Mercato Vecchio di avere l'autobus siamo d'accordo un autobus elettrico un filobus un autobus più piccolo tutto quello che si vuole ma togliere il servizio pubblico da via Aquileia e via Mercato Vecchio significa farle morire ulteriormente perché la gente non ci va più se non ci può andare in autobus quindi era abbastanza evidente che la cosa era un pasticcio di dimensioni colossali poi voglio capire chi ha firmato il primo progetto se è stata la giunta a dire al progettista fammi così e perché adesso si cambia senza che ci sia un nuovo progetto ma si dice sui giornali abbiamo fatto la nera di maggioranza si cambia ecco queste sono cose che al di là della banalità perché insomma è chiaro che quattro strisce si possono eliminare denota una superficialità che porterà grandi danni a Udine penso ad esempio al porta a porta quattro strisce si cancellano il porta a porta con un investimento di 5 milioni di bidoncini di plastica e uno stravolgimento della città delle abitudini dei cittadini udinesi sarà irrecuperabile cioè creerà danni per almeno una decina di anni e quindi queste cose sono molto molto gravi e io credo che veramente al di là di ogni polemica di ogni critica che si possa fare così le cose non possono andare avanti io ringrazio Enrico Bertossi per la partecipazione chiaramente siamo a completa disposizione per chi vuole replicare o si è sentito tirato per la giacchetta siamo qua via nazionale 56 barra di 2 Tavagnaco periferia nord della lontana provincia dell'impero grazie grazie a Bertossi e dalla lontana provincia dell'impero chiediamo qui la pagina informativa del Friuli Venezia Giulia dopo il break pubblicitario bypassiamo il tagliamento e daremo la linea insomma ai nostri colleghi della redazione del Veneto per continuare l'informazione senza peli sulla lingua come la nostra tradizione su TPN piccoli eravamo grandi stiamo arrivando anzi lo siamo alla prossima buonasera anche dalla redazione del Veneto da GP Giovanni Pacoli cominciamo subito con la cronaca purtroppo la cronaca quella che non vorremmo mai sentire cacciatore colpito da un malore nel bosco soccorso dal suo M128 disavventura infatti per un 82N del luogo mentre si trovava in una delle strutture usate come nascondigli per abbattere la selvaggina abbiamo il servizio attimi di paura in mattinata per un cacciatore 82N residente a Tarzo l'anziano è stato colto improvvisamente da un malore mentre si trovava all'interno del bosco in una delle strutture usate come nascondigli per abbattere selvaggina l'anziano è stato soccorso sul posto dagli infermieri del SUEM 118 e poi accompagnato in ospedale a Conegliano a bordo di un'ambulanza era intervenuto anche l'elicottero del SUEM ma fortunatamente vista la poca gravità non è stato necessario un trasporto dell'anziano al Caffoncello le sue condizioni non sono fortunatamente preoccupanti passiamo a Montebelluna più precisamente a Guarda dove si sa che l'imprenditoria cinese è molto fervida soprattutto in Italia è gente che lavora che si impegna che crea industria crea ricchezza soprattutto ecco loro hanno creato qualcosa di particolare diciamo che sono tornati all'agricoltura e infatti sono stati beccati dalla Guardia di Finanza anzi scusate dai Carabinieri con una Maxi Serra con 1500 piantine di marijuana e addirittura rubavano l'energia alla rete pubblica in servizio una Maxi Serra con all'interno ben 1500 piante di marijuana è stata scoperta dai Carabinieri di Montebelluna nel semi interrato di un'abitazione al civico 79 di via Trevignano nel quartiere di Guarda si tratta di un laboratorio in passato utilizzato come calzatorrificio dell'ampiezza di 140 metri quadrati il blitz che ha portato alla scoperta della coltivazione è avvenuto ieri sera ad insospettire gli investigatori era lo strano via vai dell'abitazione e di consumi elettrici dell'abitazione decisamente troppo bassi quasi irrisori se parametrati all'ampiezza per alimentare la coltivazione era stato creato un collegamento abusivo alla rete elettrica pubblica arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio e coltivazione di sostanze stupefacenti e furto di energia elettrica quattro cittadini cinesi due uomini e due donne tra cui una coppia di coniugi con una bimba piccola gli arrestati tutti irregolari sul territorio sono il 41N W.Y sposato con la 33N B.Y portato nel carcere della Giudecca Venezia la madre della piccola aveva un permesso di soggiorno che sarebbe scaduto al compimento dei sei mesi di età della bimba il 52N Z.H in cella nel carcere di Santa Bona e la 51N W.G finita anche lei in manette questa coppia viveva in via San Martino sempre a guarda sequestrati durante l'operazione all'interno dell'appartamento in cui vivevano i coniugi cinesi proprio sopra l'ex calzaturificio ben sei chili di marijuana pronta per essere smerciata oltre a dieci grammi di metanfetamina di tipo shabot e al materiale per il confezionamento e la coltivazione per sorvegliare la serra gli asiatici avranno posizionato alcune telecamere wireless all'interno si calcola che la produzione a ciclo continuo avrebbe generato un giro di affari di 1,6 milioni di euro alla vendita al dettaglio ora i tecnici Enel prepareranno il conto agli asiatici che avrebbero rubato energia elettrica per un periodo di almeno sei mesi clamore per quanto riguarda la decisione della corte di giustizia europea appunto riguardo l'ergastero ostativo applicato in Italia per i reati più gravi soprattutto quelli di mafia e anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha voluto dire la sua il servizio di fronte a un'Europa invasiva secondo la quale non si può più applicare l'ergastolo ai criminali ai mafiosi dico l'Europa che limiti la sua giurisdizione la limite ai confine dell'Italia almeno in questo ambito di fronte all'assurdità di tale pronunciamento il primo pensiero vale tante vittime degli ergastolani cittadini e servitori dello Stato assassinati dove lo Stato non è riuscito a imporsi penso ai giudici Falcone e Borsellino a Rosario Livitino a Nini Cassara a Don Puglisi ai tanti uomini e donne delle forze dell'ordine assassinati ai bambini che come il piccolo Giuseppe Di Matteo non sono stati risparmiati dalla brutalità che secondo questo pronunciamento non meriterebbe l'ergastolo e questa è la reazione del presidente della regione del Veneto Luca Zaia all'intervento della Corte di Giustizia Europea in materia di ergastolo in Italia giù le mani dall'ergastolo aggiunge Zaia che deve assolutamente rimanere come pena definitiva per chi ha commesso reatti gravissimi omicidi afferrati magari plurimi come purtroppo spesso accade in generale e in particolare nell'ambito dei crimini mafiosi non dimentichi l'Europa aggiunge Zaia che la criminalità organizzata la mafia la camorra l'andrangheta ha una sua specificità che non prevede la redenzione completa un mafioso è tale per tutta la vita e peraltro già esistono ampie forme di clemenza per i collaboratori di giustizia che dimostrandosi credibili e portando prove circostanziate in un cammino di pentimento ottengono sconti di pena e anche protezione ma conclude Zaia ci si deve fermare qui perché le vittime di questi criminali e i loro cari un'altra possibilità non la potranno avere mai annuncia un weekend difficile per coloro di voi che vorranno viaggiare ma non utilizzare i propri mezzi in effetti avevamo parlato ieri per quanto riguarda lo sciopero e lo ricordiamo lo sciopero previsto del personale di Trenitalia che ricordiamo incroceranno i lavoratori scusate incroceranno le braccia appunto Trenitalia quindi le ferrovie dalle 21 di sabato alle 21 di domenica e oggi arriva l'altro annunciato sciopero di cui abbiamo già parlato anche nelle altre edizioni ma vogliamo ribadirlo anche nella parte del Veneto sciopero del personale dell'autostrade anche domenica 13 e lunedì 14 ottobre questa agitazione è stata proclamata a livello nazionale dalla FIT CGL FIT CISL UIL Trasporti SLA CISAL e UGL Trasporti e riguarderà state attenti tutto il personale ma con modalità diverse il personale turnista di Autovie Venete della Manutenzione Impianti Centro Radio Informativo Ausiliari alla viabilità e manutenzione d'urgenza sottoposto alla regolamentazione di cui alla legge 14690 regolamentazione diritto di sciopero si asterrà dal lavoro 4 ore per ogni turno quindi prendete note dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22 di domenica 13 ottobre e dalle 22 di domenica 13 ottobre alle 2 di lunedì 14 ottobre garantendo comunque i livelli minimi di servizio il personale turnista di esazione non sottoposto alla legge 14690 che regola il diritto di sciopero potrà stenersi dal lavoro 4 ore per ogni turno e quindi dalle 10 alle 18 di domenica 13 ottobre e dalle 2 alle 6 di lunedì 14 ottobre il personale tecnico amministrativo infine potrà stenersi dal lavoro le prime 4 ore di lunedì 14 ottobre e passiamo a San Michele a Tagliamento dove nuovo ambulatorio ginecologico scusatemi sta per aprire anzi ha aperto per quanto riguarda l'ULSS numero 4 il servizio è attivo dei primi giorni di ottobre un nuovo ambulatorio ginecologico a San Michele al Tagliamento a gestirlo è il dottor Babbo primario di ostetricia e ginecologia all'ospedale di Porto Gruaro che sarà a disposizione due volte al mese qui vengono eseguite visite ginecologiche principalmente ma anche visite ostetriche spiega il dottor Babbo in questo ambulatorio viene dato largo spazio ai problemi legati alla melopause e al climaterio ma vi possono accedere tutte le pazienti si effettuano anche ecografie ginecologiche strumento principe oggi per la valutazione della donna e dell'apparato genitale interno andiamo a Iesolo dove il comune minaccia le dimissioni dalla vicepresidenza del consorzio Iesolo Venice contro il ricorso Altar per il bando IAT il servizio il comune di Iesolo valuta la possibilità di dimissioni dalla vicepresidenza del consorzio di imprese turistiche Iesolo Venice carica attualmente ricoperta dall'assessore al turismo della città di Iesolo Flavia Pastò l'ipotesi fa seguito alla decisione del consorzio di ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Veneto contro l'aggiudicazione del bando IAT per l'affidamento dei servizi di gestione di informazione accoglienza di promozione e di promo commercializzazione turistica della località la decisione di percorrere la strada del ricorso Altar anche contro l'amministrazione comunale ci trova contrari e il commento dell'assessore al turismo della città di Iesolo Flavia Pastò è una scelta che non condividiamo perché chiama in causa il comune di Iesolo minando il rapporto di fiducia che si è instaurato con il consorzio e mette in discussione la correttezza dell'ente e dei suoi uffici che hanno sempre operato nell'interesse della città e per lo sviluppo del turismo a tale proposito basti pensare che il ricorso parla esplicitamente di violazione dei principi di legalità imparzialità e buona fede in virtù del disaccordo per le decisioni assunte è stato pertanto chiesto al presidente del consorzio di valutare con urgenza il ritiro del ricorso facendo inoltre presente che in considerazione della gravità delle accuse mosse nei confronti del comune l'amministrazione sta valutando le dimissioni della vicepresidenza del consorzio Iesolo Venice carica ricoperta da me in qualità di assessore al turismo siamo a Iesolo dove si celebra la giornata mondiale delle bambine e delle ragazze il comune di Iesolo infatti aderisce alla campagna in difesa per un'Italia a misura delle bambine e delle ragazze promossa dalla fondazione Terz Ders Home Italia in occasione della giornata mondiale ONU delle bambine e delle ragazze che ricorre l'11 ottobre il servizio l'insegna Iesolo di Piazza Drago è la facciata della biblioteca civica di Iesolo illuminata di arancione a partire da giovedì 10 fino a domenica 13 ottobre il comune di Iesolo accoglie così l'invito dell'assessorato alle pari opportunità della città metropolitana di Venezia ad aderire alla campagna in difesa per un'Italia a misura di bambine e delle ragazze ideata dalla fondazione Terre di OMS Italia prevista per la giornata mondiale ONU delle bambine e delle ragazze che ricorre l'11 ottobre tra gli obiettivi della fondazione membro della campagna internazionale Girls Not Brides Spose Non Bambine e dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile c'è impegno a sostenere i punti dello sviluppo sostenibile dell'agenda 2030 tra cui il raggiungimento della parità di genere l'emancipazione e l'autostima di tutte le donne le bambine e le ragazze la città di Jesolo compie un primo passo per dimostrare l'impegno concreto per stimolare la diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e delle discriminazioni di genere a partire dai minorenni Jesolo si è sempre dimostrata attenta nel sostenere iniziative che contribuiscono a tenere alta l'attenzione sullo sviluppo sociale globale e il superamento di quelle barriere che ancora oggi impediscono di avere una piena libertà e realizzazione degli individui spiega l'assessore alle pari opportunità di Jesolo Flavia Pastò illuminare i nostri simboli è un piccolo passo che facciamo con l'impegno di creare in futuro sinergie e progetti che sostengano con maggiore forza una cultura attenta alle bambine e alle ragazze alle donne di domani questa parte dell'ultima parte del TG di TPN dalla nostra redazione Veneta informandovi su una manifestazione di interesse per la disponibilità delle superfici ad un eventuale intervento di taglio della vegetazione arborea nei comuni del Basso Piave questo è l'ultimo servizio io vi saluto fin da ora vi auguro un'ottima una bellissima serata rimanete in nostra compagnia tra poco lo sport un'intervista esclusiva dal Mici il forte esterno basso del Pordenone Calcio e poi un approfondimento in ricordo ovviamente della grande tragedia del Vaiont del 1963 da GP Giovanni e Paccarin è tutto adesso al servizio e ci vediamo domani sera buona serata ricordiamo che venerdì 11 ottobre è l'ultimo giorno utile per partecipare alla manifestazione di interesse e rendersi disponibili all'eventuale intervento di taglio della vegetazione arborea lungo la Golena la regione del Veneto sta infatti programmando una serie di interventi di diradamento e taglio della vegetazione all'interno della Golena del basso corso del Piave per migliorare le condizioni di deflusso delle portate di piena si tratta di un'attività che si svolge all'interno del contratto di fiume che prevede una serie di attività per la tutela dell'ambiente idrico e la prevenzione del rischio idrogeologico l'attività è coordinata dal consorzio BIM e riguarda tutti i comuni lungo l'asta del Piave la regione Veneto effettuerà tali interventi a titolo gratuito anche nelle aree di proprietà di privati cittadini che abbiano dato il loro consenso l'amministrazione comunale ha già provveduto dove fosse possibile a contattare direttamente i proprietari e gli aventi diritto in molti hanno già dato la loro disponibilità all'intervento ricordiamo che saranno asportate in particolare le piante morte o quelle fortemente pericolanti e inclinate che il materiale legnoso se di interesse sarà a disposizione dei legittimi proprietari e che verranno eliminate alcune specie esotiche presenti salvaguardando le specie autoctone speriamo che i proprietari aderiscono a questa iniziativa che rappresenta un passo in avanti nella prevenzione del rischio e che va a loro vantaggio permettendo la pulizia delle loro aree a costo zero così Lorena Marin assessore a ecologia e ambiente il sindaco Andrea Ceresere ricorda che gli sforzi vanno rivolti soprattutto alla realizzazione degli interventi strutturali nel medio corso innanzitutto completando la progettazione esecutiva delle casse di espansione per le piene del fiume in corrispondenza delle grave diciano e spresiano progettazione finanziata a fine 2017 con un contributo ministeriale di quasi 2 milioni di euro giovedì iniziali nubi basse foschie locali nebbie in pianura e qualche fondovalle prealpino in successivo dissolvimento seguirà cielo in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso precipitazioni in prevalenza assenti salvo possibili residui deboli fenomeni sparsi nella notte fino alle primissime ore del mattino probabilità bassa 5-25% temperature minime in aumento in pianura in calo in montagna massime senza variazioni di rilievo o in locale aumento in pianura in aumento sulle zone montane 20 in pianura al mattino deboli variabili nell'entroterra in prevalenza da est sulla costa nel pomeriggio 20 deboli a tratti moderati dei quadranti orientali nelle valli deboli in quota moderati tesi in rotazione da ovest al mattino a nord-ovest al pomeriggio sera mare da mosso nelle prime ore a poco mosso Alberto tu sei l'ultimo arrivato in questo gruppo il 22 agosto fortemente evoluto da Tesser al rinforzo della laterale bassa di difesa cosa ti ha portato a dire sì al Pordenone e cosa pensi di questa società nei primi due mesi che tu hai fatto qui allora mi ha portato a dire di sì sicuramente sia il fatto che comunque il mister mi voleva e che mi ha già allenato sia quando ho parlato con il direttore Lovisa al telefono mi ha convinto ci ha convinto mi ha spiegato il Pordenone che era una società che stava crescendo e quindi con molto entusiasmo ho detto di sì di poter avere la voglia di dare un grande contributo a questa società e a questa squadra come società e come struttura mi ha impressionato è molto in positivo sia i campi che l'organizzazione e tutto quindi sono molto felice insomma poi questa prima parte di campionato mi rende ancora più felice insomma ecco ritornando invece a Pordenone città qual è stato l'impatto che ha avuto la città su di te e i tifosi del Pordenone come città l'ho girata me l'ha fatta conoscere Sassaburrai Gianvito è stata un'impressione molto positiva mi hanno fatto vedere tutta la città insomma anche è venuta mia moglie due giorni fa e è stata con me per quanto riguarda i tifosi io penso che ti stiano dando una grandissima grandissima mano penso anche che dobbiamo anche noi cercare di avvicinarli ancora di più però penso che ci stanno dando una grandissima mano in un bellissimo stadio e sarà bello ancora tornare con loro risultati a fine partita sperando una vittoria insomma ecco il Pordenone oggi è a quota 11 in classifica e a detta di tanti è considerata una delle sorprese di questa serie BKT dove pensi che può arrivare questa squadra? e ti saresti aspettato questa esplua iniziale? io penso questo esplua diciamo che non me lo sarei aspettato insomma perché visto anche il calendario la nostra partenza era veramente una partenza molto molto difficile questo Pordenone è una squadra che si deve giocare ogni partita per vincere e senza secondo me porsi degli obiettivi anche se l'obiettivo primario sappiamo che per noi è la salvezza abbiamo finito una prima parte di partita adesso ne affrontiamo un'altra secondo me molto più difficile rispetto a questa iniziale perché andiamo a affrontare tutte le squadre con scontri diretti insomma saranno comunque partite sporche partite difficili e sarà un mese molto difficile quello che ci aspetta ecco tu pensi che la sosta possa regare danni a questo entusiasmo che si è creato soprattutto dopo la vittoria di Empoli no sinceramente penso di no perché penso che alla base di tutto ci debba essere un equilibrio che secondo me da squadra stiamo cercando di avere sia quando si vince insomma di tenere i piedi per terra e quando si perde di non abbattersi l'equilibrio penso che sia molto importante e comunque adesso stiamo cercando di lavorare meglio per migliorare la condizione dato che non abbiamo partite in questo momento e aspettiamo insomma Castellamare ecco tu hai detto che la tua scelta è stata comunque condizionata da Mr. Tesser una domanda Tesser se non ricordo male perché io lo ricordo forse come età anagrafica giocava laterale destro come te cosa ti consiglia prima di una partita e durante gli allenamenti secondo me a sinistra giocava il mister mi sembra comunque al di là di quello il mister cura molto la fase difensiva perché alla base di tutto penso che sia sempre importante non prendere gol perché a farlo sei sempre a tempo mi dà dei consigli sia tecnici che tattici insomma di stringere di più le diagonali comunque prepariamo anche in fase offensiva dalle giocate quindi in campo andiamo tutti con la consapevolezza secondo me di fare di sapere ciò che c'è da fare insomma telepordenone la grande informazione del nord est c'è tutto ma proprio di tutto e grazie a tutti Grazie.